È il Comitato Favenzia il primo organo politico a tornare sulla questione della famiglia Rom, ospitata nella parrocchia del Paradiso e messa ora di fronte ad una denuncia contro il capofamiglia riconosciuto al momento come l'autore di un furto a Russi, un'accusa per la quale i carabinieri sono ora alla ricerca di conferme. La richiesta rivolta a Don Luca è sempre la stessa, allontanare la famiglia di Roma. Noi avevamo già presentato, esposto a Don Luca chiedendogli di allontanare questa famiglia e lo stesso Don Luca e poi anche tanti parrocchiani, membri del circolo pastorale su Facebook ci dicono che questa famiglia era composta da brave persone, se le brave persone sono sorprese a rubare, come è stato scritto oggi sui giornali, credo che veramente sia arrivato il tempo di allontanarli. Voi avevate interpellato i residenti della zona intorno al Paradiso, la Berdondini ha fatto un esposto in procura, farete qualche azione? Noi continueremo a chiedere, dando ancora voce ai residenti che ci avevano interpellato, che questa famiglia Roma venga allontanata, perché non è possibile che questa gente viva nell'illegalità più totale.